Riqualificazione energetica alla scuola secondaria di primo grado Elisa Salerno in via Mainardi nel quartiere Anconetta. L'intervento concluso ha visto un investimento di 500 mila euro nell'ambito del PNRR e ha riguardato la sostituzione degli infissi, la sostituzione dei corpi illuminanti con i led, le tinteggiature e l'insonorizzazione acustica delle aule di musica e di registrazione, permettendo così un maggior comfort acustico ai 120 studenti in ambito musicale. Sono dei lavori importanti che danno una nuova luce, una nuova vita anche a questa scuola storica. Siamo nell'aula di musica, nell'aula magna, qui il progetto musicale è molto importante, quindi gli interventi hanno cambiato i corpi illuminosi ma anche insonorizzato al meglio le stanze per la musica. Infatti gli infissi, le porte interne, tinteggiature, vediamo dei colori belli accesi, la pulizia degli ingressi e anche di alcuni elementi della facciata della scuola. Quindi un intervento da mezzo milione di euro dall'Europa che sicuramente dà un nuovo lustro e anche un nuovo benessere agli standard per la comunità educante di questo quartiere. Tra le novità non solo quella relativa ai lavori ultimati, ma anche quella dell'accorpamento dell'istituto comprensivo 7 di Anconetta con il 6 che fa capo alla scuola Muttoni, che ha comportato a partire da settembre una riorganizzazione L'accorpamento prevede 10 plessi con 2 scuole secondarie, 2 scuole dell'infanzia e 6 scuole primarie. L'accorpamento, a mio modo di vedere, è una grande possibilità per armonizzare delle realtà che hanno delle caratteristiche anche complementari e importanti, di grande spessore e significato. Porto un esempio, la curvatura scientifica della Muttoni con l'indirizzo musicale della Salerno, il tempo cosiddetto modulo delle scuole primarie dell'IC6 con la maggior parte del tempo pieno per quanto riguarda le scuole primarie dell'IC7 e in aggiunta anche la curvatura Montessori che è della scuola Passini di Ospedaletto. Qui è un istituto musicale che si affiancherà alla scuola secondaria di primo grado del vecchio istituto comprensivo 6 che invece sta da circa 3 anni avviando una sperimentazione con una pseudocurvatura, non ministeriale però diciamo pseudocurvatura scientifica.